Aspetta, dovrei avere qualche cosa Come bacca contro lo scottatore No, che fai di etichetta Fastidio Caramella rara Perfetto No ragazzi, sto esplorando ancora qua Ragazzi, per questo non... Però sapete che vi dico Cioè, io non è che posso Cioè, consumare tutte le cose Cioè, scusatemi un attimo No, 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 no Eh, sì, vabbè Janjan bambino Allora, se io faccio zaino, no? Andiamo su strumenti Cioè, usiamo Elisir Perfetto Perfetto Io adesso non avrò più problemi No Come sprecare passi Allora, adesso andiamo Elisir massimo Me piace Va bene, andiamo di qua Ok, andiamo di qua Va bene, non è un problema Tanto adesso ci ho pistola Perfetto Perfetto Come un di merda Ricarica totale Che cazzo fa Ricarica totale Fastidio Fastidio Ma che fastidio Mamma Ok, di qua, no Ok Andiamo di qua No, vabbè Io vado a usare surf Devo usare pistola Acqua Yes Ragazzi Ragazzi Al 50 mi impara Terremoto Non vedo l'ora Non vedo l'ora Mannaggia Cazzozza Yes PP Max Mamma mia PP Pisto l'acqua Dai, muori Allora Guarda, non mi dispiace Di trovare tutto il tempo Tarkto Perché qua è Expo bene Aspetto per usare Fanghiglio Vabbè Allora, scendiamo di qua Eh sì, vabbè Oh, raga, raga, raga Qua manca poco Manca poco Di qua non c'è un cazzo Sì, vabbè Ok 49 De uso surf Mamma mia Terremoto al 52 No, dai Come 52 Stava allutendo Mi fa malissimo L'orecchio Capisco il motivo Fastidio Allora Eh dai Fammi almeno Ah, non ho più PP Cazzarola Non ho più PP Voglio ancora PP Per favore Pisciami tutto Mamma mia Mamma mia Mi sento così forte Basta Pietà Sì Di qua, no Ok, di qua Perfetto Comunque ragazzi No, ho sbagliato Ok In compenso Ho una bellissima notizia Sì No, dai Muori in modo brutale Now Allora In compenso Cazzo succede Se vado a fare nulla Perfetto No Tempo Proprio questo Vado a dire Eh Era costitato al 34 Mamma mia Eh Stavo pensando In compenso Una bellissima notizia Del tipo Che sono uscito Sì Sono uscito Perfetto Finalmente Allora Oh signore Cosa Non giro un piccaccio Eh, grazie Ok Oh Vabbè Surf No, dai Non mi fare fallire Surf È urtante Quando mi fa fallire Surf Perfetto Allora Allora Vi sto dicendo In compenso Ragazzi Abbiamo preso Tutte le cose Che ci sono Qua dentro Nella caverna magma Non c'è più nulla Sì Va bene E dai Signor Crofi Ah Non ho più pipì Non ho più pipì Vabbè Surf Cioè Non ho più pipì Ok E dai Surf Mamma mia Ok Perfetto E ma Ho recuperato La palla Quindi Pokémon Scelto Volo Ok Devo andare Devo andare Devo andare Devo andare A portargli La palla rossa Ah Salva Pepo Vero 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 Salvataggio Salva Salva Ok Va bene Va bene Risalviamo Perché noi siamo fighi Grazie per avermelo ricordato Allora File Subgame Sub qua File Subgame Qui Yes Ok Dopo aver salvato Io direi Che è giunto Il momento Di portare Il nostro Fantastico Bastido Ok 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 la sfera non devono ah ok quindi voi mi state dicendo quindi voi mi state dicendo che non ho le palle cioè nel senso buono ecco pensavo di avere recuperato la palla ma non ho recuperato la palla vabbè andiamo un attimo a Porto Salcevoli yes allora curiamo i pokemon ok allora andiamo un attimo qua ecco devo andare qua si certo intendiamo le nostre fantastico grazie permesso intervistare grazie grazie vabbè wow è stata la mia prima apparizione in tv sono famoso ciao Peppo ciao Remo a lui piace andare in cano allora abbiamo fatto una scoperta ah cosa Ivan cosa ancora tu ammetto che riuscirei da poco ma ora for me nessuno ah 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 l'algheppoli ah 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 perché perché mi ero sotto non vorrà mica catturare mi ero se non rimane adesso spuntarla perché perché mi ero mi che cazzo devo fare mo io e mo e adesso e adesso e adesso vai dal team idro dove cazzo stavo non me lo ricordo allora aspetta pokemon volo dove stava ah stava nel mare occhio a destra occhio 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 va bene stava di qua si stava là stava là stava là pompa pap eh mannaggia mannaggia fangheia muore ah individuati un personaggio sospetto ma stai zitto e dammi tutti i tuoi pokemon va bene tutti i tuoi pokemon no però va bene va bene allora siamo qua vediamo io guardo sempre tutta la mappa perché ogni tanto ogni tanto uso il coso anzi aspetta fatemelo usare qua niente non risponde niente non risponde niente non risponde va bene va bene andiamo eh vai ok rifugio idro cos'è sta cosa mamma mia i teletransporti cos'è sta cosa va nulla oi ciao tipa sfidami ti aro troppo mamma mia hai i pokemon più forti del mondo ah tutto qua mamma mia mamma mia perché no 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 prima di usare altre cose no ne pensavo di passare ma no eeeh io ti mando zubat allora io ti uso surf intanto poi psichico contro lui ovviamente io sono psichico ah giusto ho fatto cazzo non effetto sono stupido beh sì ma è relativo sono stupido relativamente una volta che lotta surf psichico vabbè io uso gli psichico contro vabbè 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 mamma mia mi hanno ex fatto 27 pokemon ok vabbè andiamo di qua ragazzo vado di qua oh ciao tipo eh perché c'è una masterball oh la prendo un'aula prendo ho visto l'acqua eh mamma mia sono furtissimo aspetta andiamo ah non non sono scale ma è minor per un attimo ho detto addio alla master oh ciao tipo qua che ti è mamma mia quanto ho di teletrasporti ma me la prendo con te ma me la prendo come fallisce poi muori non mi facci incazzaro non mi facci incazzaro sembra farmi incazzaro qua entriamo di qua mettiamoci qua così vi sfido tutte e due perfetto vi sfido tutte e due no allora fangheia divinazione ah ma divinazione però è dall'attacco niente di che ah per un attimo ho detto oh mio dio il mio pokemon è bestew ma alla fine il mio pokemon non è bestew deprimente adesso sono una spanna al di sopra oh ciao alan ah se butti questo pokemon è già ho perso mamma mia cioè con questo pokemon cioè proprio la prossima ah beh si è un gorbat allora beh allora 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 è tutto diverso ora è tutto diverso sì ti va solo solo il fatto che l'hai messo in campo mi ha spaventato cosa è questa cosa è è ti va ora ti va procre evo ti va te ti va ti va ti va ti va tu te tu ti va Grazie.